Se sei un tecnico e sei alle prese con un cantiere di Superbonus e cerchi in qualche modo di utilizzare delle soluzioni costruttive innovative, efficaci e soprattutto congruenti con quelli che sono i tempi e gli obiettivi del Superbonus, allora non esitare, ti invito a seguire il nostro prossimo seminario tecnico, il nostro prossimo webinar. Il sottoscritto unitamente all'ingegnere Daniele Spinello ti spiegherà come e perché in un cantiere Duosystem è facile e soprattutto si ha la possibilità di gestire i risultati di progetto e quindi di poterli realizzare. Per questo motivo ti aspetto venerdì prossimo 9 luglio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.